Ciao, benvenuti su MyFootballJersey. Oggi vedremo insieme la seconda maglia dell'Inter Milano nella versione FUN, quella dedicata ai tifosi. Brother and Sister, l'Away Kit 2022-23 esalta il carattere internazionale che da sempre contrandistingue il DNA del club e che trova la sua massima espressione nella nuova seconda maglia. Il bianco fa da base al nuovo design, arricchito da una stampa in colore light aqua che raffigura un planisfero. Progettato per abbinarsi alla combinazione di colore della maglia, lo stemma ricolorato e posizionato vicino a Milano sulla mappa per sottolineare ancora una volta il legame indissolubile tra l'Inter e la sua città. I pantaloncini e i calzettoni del nuovo kit sono invece di colore bianco. Come la divisa home, il nuovo kit si inserisce nell'ampia iniziativa Move to Zero di Nike, che predilige l'utilizzo di materiali alternativi a basse emissioni di carbonio. Wow, la maglia è veramente molto bella. Nella mia personalissima classifica questa prende 4 stelle. Ero tentato di darne 5, però mi sono fermato a 4. Qui vedete il prezzo che peraltro vi ricordo include le spese di spedizione. La maglia è fatta veramente molto bene e mi piace tanto questo colore, questo color acqua, è veramente una maglia ben riuscita. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e trovate un link per ottenere un coupon da 5 dollari che potete spendere sul sito per comprare quello che volete. Quindi voglio dire ancora più vantaggiosa. Ora vi lascio alla parte finale in cui vedrete i dettagli, quindi mi raccomando continuate a guardare il video. Io spero come al solito che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima. Dimenticavo, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate della maglia e fatemi sapere quale altre maglie vorrete vedere in futuro. Ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN.